In questi ultimi mesi abbiamo tanto parlato di questa chiesa, di come sarebbe cambiata. Questo non è un inizio nuovo, questo è un passaggio che abbiamo fatto. Allora mi dicevo, dove porterà il Signore questa chiesa? Cosa possiamo fare per la chiesa? Ma veramente dobbiamo dire la chiesa? Questa parola, chiesa, chiesa... Quante volte l'abbiamo pronunciata senza per sé soffermarci veramente su che significa? Chiesa. E allora pensavo la chiesa, che cosa è la chiesa? La chiesa è questa, Giorgio. La chiesa siamo noi, noi siamo la chiesa. No, spoilerale, però sì. Ecco la chiesa, ci sono Zetti a Punta, ci sono il bel Borromeo e il San Pietro. Ho pensato, non è possibile che la chiesa è questa? No. E allora ho cercato il significato non, il significato della parola in se stesso, perché se voi cercate sulla Treccani, la chiesa è un luogo religioso. Io ho cercato, ho cercato di trovare, cos'è una chiesa? Per Dio, per il Signore. Già. Pensavo che si vedesse meglio. Non so, vedete? Non lo io penso, vedete. La parola chiesa, deriva la chiesa, significa assemblea. Grazie. Sono contenta e ringrazio Dio che vi dà questo cuore voglioso di donare, grazie. E chiesa significa assemblea, e deriva da un verbo, che significa chiamati fuori da. E assemblea, a sua volta, deriva dall'ebraico, che significa donanza. Qui non parla di un'esercizio, parla di questo. Vai prossimo. Questa è la chiesa. Guardate la sua prima madre. Ecco che cos'è la chiesa. La chiesa siamo tutti noi. Avanti, Giù. La chiesa è insieme di quelli che hanno accettato la salvezza di Cristo. Scusate, ragazzi, si mette male. Atti. Dal versetto, al capitolo 2, dal versetto 46-47. Luca scrive. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio. Rompivano il pane delle case. E prendevano i loro cibi insieme. Con gioia e semplicità di cuore. Lodando a Dio e godendo il favore di tutti i poveri. Qui non parla ancora di difficili. Erano dei fratelli. Erano persone che sceglievano di accettare Gesù nel loro cuore. E da quel giorno, assidui e concordi, pregavano. Ricordavano il gesto di Gesù. Ricordavano la Santa Cena. Con gioia e semplicità di cuore. E godevano il favore del popolo. Il popolo lo vedeva. Questo è anche l'esempio. Questo è anche dimostrare Gesù. Andiamo un attimo. Voglio farvi vedere altri versetti. Tieni un attimo giù, giù. Mettila tutta. No. Non mi dici che sono dietro? Questo dovrebbe essere Gesini. Sì, hai Gesini. No, no. Dopo. Questo dovrebbe essere Gesini. Paolo ci dice. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti. Dopo capito bene qual è il versetto del capitolo. Non siete più né stranieri né ospiti. Ma siete concittadini dei santi. E membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli. E dei profeti. Essendo Cristo Gesù stesso la piatta volare. Sulla quale l'edificio intero. Ben collegato. Si va inalzando per essere un tempio santo del Signore. In Lui. Voi pure entrate a far parte dell'edificio. Che ha da servire come timore a Dio. Per mezzo dello Spirito Santo. Vi rendete conto che grande onore. Noi siamo delle pietre. Che servono per completare l'edificio. Santo a Dio. Come fondamenta ci sono gli apostoli. I profeti. E come pietra angolare. La pietra che tiene tutto c'è Gesù. Questo è il nostro grande onore. Ci sembra adesso scontato. Veniamoci, sediamoci. Siamo in chiesa. Preghiamo insieme. Una tante cena. Ma noi siamo questo. Nei stranieri. Nei ospiti. Siamo parte fondamentale. Di quello che Dio sta creando sulla terra. Di dove abita la sua potenza. Siamo tanta roba. Il mondo fuori ci va a sembrare sempre strani. Ma che vanno a fare una chiesa con la stanza. Perché sotto c'è queste stranezze. Ma noi siamo qualcosa di importante. Noi siamo una pietra. Ricordiamoci un po' che abbiamo uno sconforto. Lo dico a voi perché lo dico a me. Noi siamo una pietra. Di un edificio santo. Questo dovrebbe essere una cosa su cui dobbiamo concentrare. Invece a volte ci facciamo distrarre dai numeri. Invece di guardare le sedie pieghe. E quindi la montagna che Gesù ha spostato. Per far venire fino a qui. La domenica mattina. Portiamo le sedie vuote. Quello non è il nostro compito. Non è il nostro responsabilità. Non siamo stati più o meno benedetti. Perché non siamo diventati quanti noi volevamo diventare. Adesso abbiamo. Siamo tanti. Ma poi in realtà sappiamo che quelli che rimangono dai vent'anni. Non siamo poi così numerosi. Ma il Signore a noi ci interessa. Ci dice non è un problema vostro. Voi pensate che siete un mattoncino del mio edificio. Pensate che fate parte di qualcosa di importantissimo. Ho pensato a una cosa. Dio è un Dio preciso. Non è casuale. Se ci dice qualcosa nella Bibbia. È perché sa che ci sarebbe servito. Lui non mette. Ci dà tante indicazioni. Sui mariti, sulle mogli. Sui credenti, sui figli. Su servitori e padroni. Non ci dice niente sulla sovrabbondanza delle chiese. Su come gestire le chiese grandi. Tipo, allora ragazzi. Se diventate del regento. Cominciate a fare pulpi alternati. Se no quelli giù in fondo non sentono. Mi raccomando. Erano fade. Assemblamenti. Lo sapete. Signora non ce la dà la stabilizzazione. Perché lui sapeva che non sarebbe stato questo un problema. Che è più possibile che ci siano chiese vuote. Che chiese strapiene. Perché questa è proprio la nostra battaglia. Però fissa un tetto minimo. Non c'è nessuno credente che non abbia mai letto questo versetto. E nessun pastore che non abbia mai criticato. O almeno una volta su questo versetto. Pure io. Che non so niente. Lo so in memoria. Adesso lo leggo. Ve lo dico. E' Matteo 18 letti. Il signore mette un tetto minimo. No? Dove ragazzi. Fino a questo numero. Io. Vengo. Ce sono in mezzo a voi. Però il numero bisogna vedere quant'è. Voi che dove sono circa una cinquantina. Io sono all'alimenti. No. Perché è bene? Dove è una quarantina. Allora la quarantina il signore. Dall'altro decenni. No è 40. 30. 20. La quindicina. Non mi dite che viene per meno di 10 persone. E allora non lo ricordo. Joe. Ce l'hai il prossimo? Lo leggiamo insieme? Non si vede scusate. Puoi chiedere dove due o tre sono riniti nel mio nome? Io lì. Sono lì in mezzo alla loro. Il signore. Lui già per due scende con la sua presenza. Gli interessa nei cuori. E se non interessa a lui. Se non c'è da lui indicazione qui dentro. Perché ci dobbiamo mostrare a noi questi numeri? È vero. All'inizio si convertivano 2000 persone in un giorno. 1000 persone. E mi immagino che mi macellano in quelle piazze. E tutti. Ah, c'è a tutti io. È vero. Si convertivano così tanti. Poi dove finivano? Ma se Paolo, ragionavo, se Paolo ha scritto 13 lettere per incoraggiare, esortare le chiese, far sì che resistessero agli attacchi, allora non è la chiesa nostra che non è belletta. Sono proprio le chiese che stanno attaccate. È proprio più facile scegliere di stare fuori da un gruppo chiesa che è dentro. Paolo, pochi anni dopo gli apostoli, già scriveva le lettere. Fingono già tutti quei grandi convertiti. Quindi, ragazzi, questa è la realtà. Il Signore lo sapeva. E per questo ci ha detto, non vi scoraggiate, ragazzi. Tutte le volte che pensate che siete fuori, io ci so, io vengo, eh. Io, il re del re, il leone della triboligia, da quello che muove le montagne, io vengo, mi scomodo per tutto, io ci vengo. Io ci so, eh. Non pensate se siete fuori. Non è facile. Perché noi non vediamo tanto il lago di Dio. Dio sopra, ma diciamo, nel suo piano, non sappiamo che è così grande piano. Ma noi non ci preoccupiamo per questo. È un'altra nostra responsabilità. Quello su cui ci dobbiamo soffermare, quello che ci riguarda, come Chiesa, è seguire l'insegnamento di Gesù. Il suo esempio. Quello ci interessa. Gioco, dai. Marco, poi mi devi spiegare perché mi ha avuto a storico che è a casa in cielo. Se vede male tanto, eh. In Efesini, Paolo dice, e è questo che sul lavoro ci dobbiamo concentrare, siate dunque imitatore di Dio. Perché siete figli da Lui amati. E camminate nell'amore, come anche Cristo li ha amati. E ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio. Quale profumo di odore sovare. È questo che ci deve interessare. Imitiamo Dio. Cerchiamo di amare Dio. Seguiamo gli insegnamenti di Gesù, quello che Gesù ci ha insegnato. Tutto il resto verrà. Tutto il resto che Lui vorrà, verrà. Non sappiamo che tassello siamo in questo piano infinito del Signore. Io mi divertivo un po' a pensare a ragionare quei ragazzi. Chissà se magari Gianni, Marco, Lucia e Cambio hanno fondato questa chiesa. Perché poi noi dovevamo apprendere l'insegnamento di Gesù per poi mandarle ai nostri figli. I nostri figli magari, i loro figli, i miei ripoti diventeranno, non lo so, ambasciatori di Dio che sta dove. Che ne sappiamo noi? Non aspettiamoci le risposte che vogliamo, quando vogliamo noi. Siamo parte di un piano immenso. Tutte le cose cooperano, no? Alla fine per il piano di Dio. Non possiamo sapere che tassello siamo. Non ci facciamo tante aspettative. Prooccupiamoci di essere limitatori. Non avevo mai una altra cosa. In Matteo, Gesù, ancora prima di darci il grande comandamento, il grande mandato, che poi se volete, che è un po' che non lo leggete, lo trova dal capitolo 22 e dal 37 al 39. Ancora prima, nel capitolo 20, si dà un altro comandamento. Ci si dice qualche altra cosa che dobbiamo fare per essere limitatori di Gesù. Giù. Chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà il vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà il vostro servo. Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Matteo 20, 26. Ecco che dobbiamo fare. Gesù non poteva venire, no? E comandare tutti. Allora, tu questo, tu questo, tu questo. Invece lui è stato il primo a servire. Guariva. Aiutava, ascoltava. A volte è più importante ascoltare. Le persone avevano bisogno anche di questo tipo di aiuto. E poi gli esempi più classici della Bibbia, no? I più conosciuti. La banda dei piedi. Il suo grande sacrificio. Poteva tranquillamente l'amore di qualcun altro. O sceglie un altro modo per essere purificato. Pensate se quel giorno avessi scelto di far cadere il sole dentro all'acqua, dentro al fiume. Ma chi è che non avrebbe creduto a un gesto del genere, no? Lui con molta umiltà, col suo corpo da nuovo, ha deciso di morire. Ci ha servito. Ha dato la sua vita per noi. Una vita sola per il riscatto di tanti. Questo. Questo ci deve interessare. Fai ammigliare la prossima, Gio? Questa è la troppo lunga. E quindi preferisco leggerla. E è il Matteo 25. Se lo volete prendere, come lo volete. Questo ci dovremmo preoccupare. Questo dovrebbe essere il nostro pensiero. Qui noi possiamo fare qualcosa. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto tutto l'angolo di lui. E a tutte le genti, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui. Ed egli separerà gli uni dagli altri. Come il passore separa le fecore e le capi. E metterà le fecore alla sua destra, i capi alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra, Venite, voi, i benedetti del padre mio. E ereditati il regno che v'è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi desse da mangiare. Ebbi sedio e mi desse da bere. Fu spagnolo e mi accoglieste. Fu in uno e mi vestisse. Fu ammalato e mi distaste. Fu in prigione e mi veniste a trovare. Allora i giusti gli risponderanno Signore, ma quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? Lo ha sedato e ti abbiamo dato da bere. Quando mai ti abbiamo visto spagnato e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando ti abbiamo visto ammalato o in prigione siamo venuti a trovarti? E il re risponderà a loro. In verità vi dico che in quanto l'avete fatto a questi miei minimi fratelli non si è fatta a me. Questa è la prima cosa che possiamo fare, fratelli. Possiamo pregare, continuare a pregare per tutte le persone che conosciamo affinché converte nel loro cuore a sé del Signore ma possiamo solo pregare. Però possiamo dare il nostro esempio. Possiamo essere imitatori di Gesù. Possiamo fare come lui per prima e per quanto. Servire. Vi riconosceranno dall'amore che avete gli uni per gli altri. E ci sono una valanda ancora di versetti che stavolta alle quattro ho deciso di non mettere le caratteristiche avremmo però non lo so ma la Bibbia parla tantissimo di questo servire. E più, diciamo, era alto il grado vicino a Gesù più dovevamo servire. Vogliamo essere i primi vogliamo essere vicini al nostro Signore quando tornerà e farà il nuovo mondo. E allora dobbiamo servire. Dobbiamo fare come noi. Non ci preoccupiamo del resto e il resto verrà quando ovviamente pure noi. Quindi abbiamo capito che siamo la Chiesa abbiamo capito che la Chiesa non è l'edificio ma siamo noi. Abbiamo capito che come Chiesa abbiamo il dovere di imitare Gesù e di servire. Ultima stagione. Adesso adesso è il tempo di servire. Adesso non ci sono scuse. Adesso è il momento di continuare a quello che abbiamo fatto già ma che abbiamo lasciato purtroppo tempo sospeso. Dobbiamo servire qui dove ci troviamo. Dobbiamo aiutare in tutti i modi in cui si possa fare. Singolarmente. Perché noi siamo dove c'è la Chiesa? pensavo. Non so se questa è una... Siamo due volte. Siamo a Chiesa singolarmente perché il nostro corpo è il Tempio di Dio e sapete che il Tempio fin dall'Antico Testamento è l'uomo in cui Dio dimora. E poi siamo a Chiesa perché siamo tutti insieme. Siamo a Chiesa due volte. Ci abbiamo due volte questo onore o questa responsabilità. Adesso è il momento di servire. Io ci sono. Se voi ci siete è il momento di servire questa comunità in tutti i modi in cui possa essere. Pregate Dio. Pregate Dio perché possa aprire le porte di chi si occupa di questo e possa farci entrare a collaborare perché non è così sempre sapete in che modo di differenza siamo. Pregate. Io questa settimana mi sono messa come obiettivo e telefonerò a delle persone e delle associazioni per sentire per offrire il nostro aiuto. Il Signore ha bisogno di sapere chi di voi c'è su chi si può contare per questa nuova missione che ci siamo mai seduti in Ascone. Nel frattempo preghiamo quello è di tutti compito di tutti anche dei piccoli io lo dico sempre preghiamo affinché il Signore ci possa usare qui da lì vedranno che siamo venenti da lì vi aspetta la domanda spontanea di dire ma che fai qui ma non c'è da fare niente a casa la scelta dei vanni fattorisce sono qui perché io devo essere fidatore di Dio poi dove viene il resto? Grazie scusate sono mi sentito in un caso Marco vuoi concludere il preghiero per noi? Signore grazie dell'onore che ci fai di essere il tuo corpo in terra noi sappiamo Signore che a te che sei eterno che sei ogni presente che sei onnisciente che sei ogni potente non servirebbe assolutamente che devi essere imperfetti facciano il tuo lavoro ma nonostante tu vuoi che devi essere assolutamente imperfetti assolutamente fallaci assolutamente impreparati porti in avanti la tua opera di salvezza attraverso la conversione e attraverso l'appartenenza a Gesù Cristo per questo Signore ti benediciamo e vogliamo chiederti l'aiuto del tuo Spirito Santo per portare avanti questa questa missione ciascuno che ha ascoltato oggi e che ha sentito qualche cosa dentro di sé ascolti e risponda a quello che il Signore sta chiedendo al Gesù che bussa di nuovo per l'ennesima volta al proprio cuore perché non basta una conversione ma ci vuole l'impegno costante la conversione è il momento in cui noi diveniamo accettiamo il sangue di Cristo e poi c'è la strada da fare insieme a Cristo e la testimonianza ciascuno e ciascuna risponda dentro di sé se vuole realmente continuare a essere soltanto un credente o un discepolo e un servo tutte queste cose le preghiamo nel tuo Santo nome Signore Gesù Amen Amen Grazie 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 Grazie